Buongiorno, sono Maria Stella Wirz, cofondatrice di Associazione Mercurio e responsabile per l'Italia del progetto Pink Sea Whale. Io vengo dal mondo dell'arte, ho studiato storia dell'arte all'università, poi ho fatto un dottorato in arti e letterature comparate, ho lavorato in casa editrice dove ho conosciuto Matilde, poi in università e in aziende realizzando mostre d'arte o progetti culturali e quattro anni fa ho iniziato il progetto Pink Sea Whale e immediatamente Matilde è salita a bordo e abbiamo portato il progetto in Italia dove ha avuto una grandissima diffusione.